Ciao a tutti da Christian TJ, il salutatore del blog. Eccomi insieme alla Romana Casting, insieme a Bruno, Andrea, Emma, Fabrizio, che hanno qualcosa da dire per molte persone di voi. Venite tutti quanti, iscrivetevi alla Romana Casting, è una garanzia. Tutti i sabbari e le domeniche noi facciamo i casting, iscrizione e foto, importante, sono gratuite. Venite via delle zoccolette 26 a Roma. Questo per tutti voi che volete fare il cinema, Romana Casting. Un saluto a tutti gli amici di Youtube, MySpace e su Facebook hanno il contatto... Facebook Romana Casting di Andrea Romagnoli, provateci per credere. Ricordate, è tutto gratis, venite. Vi aspettiamo, numerosi. Provate per credere. Ciao a tutti. Ciao. Vi aspettiamo.